Fratelli d'Italia fu scelto in fretta e furia come inno provvisorio nel 1946 per sostituire la marcia dei Savoia. Ma fino a oggi non era mai stato ufficializzato dal Parlamento. Siamo definitivamente Fratelli d'Italia? Alla vigilia di un mondiale di calcio in cui non lo sentiremo, il canto degli italiani, vero titolo di Fratelli d'Italia, è diventato l'inno ufficiale della Repubblica, grazie al DDL approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato. Advertising. In re-advented by TEDS. Già perché fino a ieri? Quell'opera di Mameli e Novaro, l'avevamo fischiettata e urlata solamente a titolo provvisorio, come il risultato di una storia pasticciata e dunque bellissima. Una storia che inizia nel 1849, quando il patriota Michele Novaro compone una marcetta in si bemolle per accompagnare il testo del poeta Goffredo Mameli. L'opera parla di fratelli di una nazione di là da venire, di vittoria, di imprese di Scipione, e diviene presto il canto dei patrioti che combattono per l'unità d'Italia durante il risorgimento. Dopo l'unità, però, il canto viene sacrificato dai governanti italiani, che gli preferiscono la marcia reale, brano ufficiale di Casa Savoia. Il componimento di Novaro e Mameli è ritenuto troppo moderno, troppo poco monarchico. Passano gli anni. Viene la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza e il referendum che decreta la nascita della Repubblica, e la fine della monarchia. In fretta e furia il neonato governo De Gasperi, il primo della Repubblica Italiana, emette un provvedimento d'urgenza per sostituire la marcia dei Savoia, ormai decisamente anacronistica. Provvisoriamente, viene scelto quel componimento di Novaro e Mameli. Un'opera scritta cento anni prima da due ragazzini, che per giunta, rimarrà fino al 2010 di proprietà intellettuale della casa editrice Sonsogno. Sì, per suonarla in pubblico si doveva pagare la SIAE. Negli anni che seguono, l'inno entra nelle case degli italiani in occasione delle cerimonie ufficiali, e, più che altro, dei mondiali e delle olimpiadi trasmessi in televisione. Nessuno pensa a rattoppare quel buco legislativo. Nel 2005, 2006 e 2008 parlamentari di vario schieramento propongono dei disegni di legge per inserire l'inno nella Costituzione, ma falliscono per lo scioglimento anticipato delle Camere. Un riconoscimento implicito arriva nel 2012. Quando una legge prevede l'obbligo di insegnare il canto degli italiani nelle scuole.